bene amici oggi ho voluto fare assolutamente questo video non potevo non farvelo perché ragazzi mi è arrivato da tp link questo router ozzone gigante archer c3002 come potete vedere qui un prodotto appunto con 3200 velocità 3200 megabit di velocità massima poi divisa sia sulla banda da 5 gigahertz che su quella da 2,4 gigahertz non ricordo quanti megabit per una banda e quanti per l'altra scusatemi adesso lo trovo ecco l'ho trovato qua abbiamo 1300 megabit per la 5 giga sa ancora 1300 megabit per l'altra 5 gigahertz e 600 megabit per 2,4 gigahertz perché come se avessimo due modem router per la 5 gigahertz e uno per 2,4 gigahertz perché perché questo prodotto supporta la tecnologia 3 band e anche credo che supporti oltre la tecnologia beamforming credo supporti anche la tecnologia maimo vabbè comunque le specifiche andrete a vederle poi voi sul sito tipi link guardate che router ozzo pesa davvero tanto e poi guardate che alimentatore è un alimentatore da 12 volt 5 ampere di uscita quindi questo sta a identificare che comunque il router pesa tanto vi faccio vedere vi faccio vedere guardate come si alzano le antenne guardate è davvero bello si alzano in questo modo e praticamente è come se fosse un robot vabbè se lo girate diventa un tavolino ma non credo sia appunto l'uso che è questo mod debba essere fatto comunque vedete c'è una porta usb 3.0 qui un'altra porta usb 2.0 qui qui abbiamo la porta one per collegarlo per esempio a una dsl in cascata attenzione ad utilizzare il router io lo posso utilizzare perché è una merdosa vada phone station la quale non si può sostituire ma sorvoliamo questo discorso se no mi innervosisco qui abbiamo un'altra antenna e qua ne abbiamo ancora un'altra quindi ne abbiamo praticamente sei antenne e qui dietro abbiamo cioè qua davanti abbiamo le spie tasto per accesso e spegnimento del wifi qui posizionato qua tasto vps e questo credo sia il tasto per spegnere accendere i led in modo tale che magari se lo posizionate in un ambiente notturno per esempio è una camera da letto eccetera oltre a spegnere il wifi per siamo limitare l'inquinamento elettromagnetico potrei anche spegnere le luci per evitare che lo stesso vi dia fastidio per questo brevissimo video è tutto restate sintonizzati sul canale perché ho intenzione di provarlo con vorafone station revolution e farò un video sia per la recensione per questo prodotto e vi farò anche un video che vi spiegherà come poterlo utilizzare al meglio con la vorafone station revolution perché con vorafone station revolution i prodotti non sono plug and play ma ci vuole un po di accortezza nella configurazione del software ovviamente di vodafone per questo brevissimo video da l'archer c3002 che funge anche da tavolino al contrario è tutto io vi ringrazio e vi lascio ai miei prossimi video che arriveranno adesso con una cassa bluetooth tutto altoparlante insomma un po di un paio di video ciao a tutti e buon lavoro